Se trovassi, se fossi contro gente non squishy più che fare sta build, fare una build on it con il Lethal Tempo Perché se non sono squishy vuol dire che ti stanno appiccicati al culo e non scappano E quindi puoi andare Lethal Tempo, Kraken e robe simili Ok Basta nascondere Nick, non penso sia così facile, in realtà Allora, vediamo di fare sto pattern di giungla, vediamo un po' cosa succede Qua lo mettiamo a 50 Tuk Proviamo a mettere uno qua e due qua Ok, dopo leggo Dopo leggiamo Ho visto una ward, what the fuck Ricordatevi una cosa che molti non sanno Quando fate il contratto, tra virgolette, insomma Accettate le condizioni di Riot per fare l'account Ricordate che c'è proprio specificato nelle cose che nessuno legge Che l'account rimane di Riot Games Quindi il vostro account non è vostro Il motivo per il quale non si può vendere Non si può fare un sacco di robe Ci stanno rubando Noi ruberemo il suo Ok E noi rubiamo il suo ragazzi Ok Comunque sto giocando Sciacqua di giungla Come dovrebbe essere giocato Perché sono molto curioso di sti buff che li hanno fatto Sugli scaling a D Ok Non male che han tolto sto bug Una volta ragazzi non sapete per quanto tempo c'è stato il bug Tu facevi la Q dietro al gromp Ok Capisco Vabbè Giustamente Arriva tutto il team ragazzi Come minimo Ma è giusto che sia no? Però scusate Quando hanno guardato questi Perché la mia guarda al blu era scaduta da un pezzo Quindi pensavo non ce l'avessero Allora guarda lì Ad Iron Oh Fammi vedere Non ci sono numeri Altrimenti avevano già la risposta Ma Non sembra messerci numeri Comunque è vero Sì ad Iron Sì tutti smart Infatti bisogna riportare gli account A bronzo È incredibile Che danno ha fatto Crando l'Iron Andiamo a riprenderci il double buff boys È tutto guardato Andremo Oh Grazie per la spinta Così Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Brava Let's go Ok Vain mi è piaciuta Tolto la spinta Leona un po' pazza Che è arrivata Ok Ok Ah qua vi do delle scarpe Le swiftness Però Non fa impazzire Secondo me Posso dire una cosa ragazzi Per me stream sniper Erano qua Io allora ricordatemi Dopo di guardare il replay Ricordatemi di guardare il replay Ragazzi Perché Cioè lui era qua È arrivato qui Per mettermi la ward Al crags Mentre li stavo facendo E prima E prima Super in ritardo Perché avete fatto caso Che non sono venuti al blue Ma sono venuti Quando ho iniziato a fare il gromp Perché quando ho iniziato a fare il gromp Che senso ha Se tu mi vedi con la ward Perché venire quando faccio il gromp E non quando faccio il blue Animo C'è la duro L'ho visto in tantissimi video Magari è possibile Non sto dicendo che Come sta la nonna Che sia così Grazie gatto In realtà Non sta molto bene Però grazie del resub No ma non metto A parte che Cioè scusate Se sono io il jungler Che senso ha Coprire la minimappa Copro la minimappa Così loro non sanno Che campo mi sto facendo Coprire la mappa al massimo Ok Dai abbiamo preso una kill Blue buff E Andiamo via La Q per i danni Ma è lei che è la spell Che fa i danni Non la Q Anche perché lei Quando il nemico ha poca vita Ti fa molti più danni La Q Aumenta di 40 danni E la stealth duration Che però Non è così importante Ok Allora Essence river Ho visto che giocano tutti questo Prendiamo sto Essence river Cioè vedete perché Questo aumenta di 100 i danni Però Se il target È sotto Tot vita Il danno aumentato È il 50% Ovviamente non è forte Quanto ero una volta Questo a prescindere Sì è guardato Ok Cato Spero potessimo fare di più Ok San jungle Com'è non serve Abbastanza sustain Non tutti È vero Però a non tutti serve Ad alcuni proprio pari Tipo Fiddlestick Warwick E company Uno Forse è un po' anche Anche sciacco In un certo senso Io sto nei ditori Della bot Perché Mo c'è il drago Ok 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 Vediamo se riesco Ad andare a Punzecchiare Zichete Bossa dell'albanese Ecco qua Albanesato Albanesato Ok 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 Bravin Però se ne darci una mano Preferirei Vabbè Ce la faremo da soli Oh alla fine la pozione La sto usando Ecco qua Ok Chi è che si è permesso Di mettere una ward lì Ma sono pazzi Oh cazzo Serve il mio aiuto Presto Presto Arrivo Shyvana Arrivo Non gli permetterò Di farti del male Eccomi Ecco Ti riverti Via la ulti Ok Siamo tutti Vi senza vita Oltretutto Il loi è un grande Counter di Shaco Perché Tu ulti E gli dai un tentacolo In più da spawnare Quando ulta lei E' sempre Un attore di cazzo Questo proprio Non vedo Non sento Non parlo Rubbo tutto E rubo anche Un po' di soldi Da qui Akali Benissimo Ovviamente Targhettato Dalla torre Perché Chi era entrato Nella mia box Che avevo Erroneamente Piazzato Sotto torre Qualcuno dice Fieri ma perché Non è il tato Non cambiava niente In che giorni Giochi a minecraft In questo momento Nell'ottavo giorno Della settimana Soltanto Allora Questo lo buildiamo L'infinity Mi spie Sapete cosa Si va di infinity Ragazzi Voglio provare Sta build Pazza Penso che L'età di Sia un po' Più forte Però Proviamo Siamo crit Come i vecchi tempi My bad Me too Ok Con funziona Non l'ho mai Capito Probabilmente Non ci ha mai Fatto il tutorial Senti Penso Capiresti Subito Ok Da che parte Andiamo adesso Pot c'è Akali E mid C'è Vayne Ok Allora E' maxata Top morta Uh Quanta poca vita Non ci arriverò Mai in tempo Forse si Oddio rimane E' pazza Tic Ah Questi che rimangono Senza vita Contro Shaco Proprio Disrespectful Ecco qua Comunque Maxo Q Seconda Perché Boh Dele box Me ne fareò Un cazzo Poteva essere Una mezza Buona idea Magari mettere Qualche punto Sulla box Nei primi tre Livelli Giusto per dire Cleary meglio La giungla Però Oh Siamo in testi cazzi Però una cosa Che mi piace su Shaco E' il Tiamat Quindi Vabbè Attenzione Attenzione Arrivo Afragolo Lei critta Se il bersaglio Gira tu di spalle Fa più danno Come tutte le cose Tutte le abilità di Shaco Anzi una volta Era tutte le abilità di Shaco Adesso La Q L'autoattacco E la Oddio Akali No Allora Avevo dimenticato Che non c'era Vayne botlane Ma c'è Akali L'inutilissima Akali botlane Quindi Effettivamente Non abbiamo fatto Non abbiamo combinato niente Io Io Ma io non capisco Perché il midlaner Sia botlane A condividere l'expo Con il support Finalmente E perché non c'è Vayne Perché Vayne è midlane Oh Vabbè Perché ragazzi Vayne è midlane Qualcuno me lo sa dire Cavolo Potevo prendere la pianta Attimo qua Spaventato proprio Ah la box Scemo Un altro flash Bene Ecco Ma cosa sta succedendo In midlane Ma Ma che cazzo Perché c'è Vayne Che pusha Senza che nessuno Faccia niente Vai C'ho l'infinite Ragazzi Letality Ho crit Per scalare Ma Secondo me Non avvi di mezzo Perché Per farti un esempio Anche se vai letality L'essence river Lo vuoi prendere E anche se vai crit Ciò non togli Che puoi prendere Un bel prowler Quindi Diciamo che È sempre un po' Una via di mezzo Come mitico Se intendi come mitico È meglio Un mitico letality Secondo me Ma Vayne sta affattuto Nessuno gli dice niente Ma cos'è sta storia Cosa sta avvenendo Cosa avviene Ragazzi Ha fatto un po' Di danni Sembra quasi Un assassino Ragazzi Sciacco Ma che è successo Cosa gli è successo Cosa gli hanno fatto Sembra quasi Un vero assassino Adesso That's crazy Ok ok Questi non fanno effetto Guarda che siamo 19 a 14 Non è che stiamo Stravincendo Perché top Non fa un cazzo Diciamo che Adesso Un bel Lord Domenico Ce lo possiamo fare Secondo me Ecco qua Sputa Poo Poo Bravissima No amici Zacc 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 Bisogna fare Un po' di Armor Penetrazione Se no Zacc Zacc Una top Shaco Crit Subito 2014 Davvero Una volta Shaco Si gioca Full Crit Proprio Static Infiniti Perché effettivamente Sfruttava Tantissimo I danni Del Crit Scusi Maresciallo Eeeh Punito Cosa sta accadendo Il drattar Che in rosso Che in rosso Con first strike Diracta Tutto Ma è rosso Eh Non è blu È rosso Vito Oh shit Ma questa che danni mi fa Ma come chi ne è ancora vivo Ma anche Che universo E perché quelle full vita Non mi hai preso Scemo Dove è andato Vabbè Ah come mi vuole Ok Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Oh lord domenico Ora ci divertiamo E poi ci potrebbe stare bello Una bel prowler Perché Dopo che faccio Dopo che esco Dall'invisibilità Il prossimo attacco Fa 85 più 45% I danni bonus Fiscal damage E se È fatto da un champion Mili Slow Del 99% Per mezzo secondo Quindi praticamente Immobilizza Per mezzo secondo Tic Tic Ok Draghetto C'è una nuova notifica Ciao fieri Non sapevo a chi dare il mio prime Quindi ecco Porto Tic Tic Ok potrebbe avere un futuro Sciacco buildato così Sapete Magari non tanto L'infinity Magari con una bella Drakhtar Hanno sorrendato Falliamo Draken Grazie mille del sub Molto gentile Grazie tante Fede Jots Grazie anche te Bello T'ho visto Scusami Exirius Grazie anche a te Però Atana Firi No Mi dispiace Magari un giorno lo farò Ma quel giorno Non è oggi Neanche domani Prova Test in cui fallito Sì